il coronavirus è fermato per troppo tempo open space l'appuntamento del venerdì sera e allora riprenderemo da dove avevamo lasciato naturalmente in sicurezza come richiesto dell'emergenza che stiamo vivendo ma prima di cominciare facciamo l'appello maurizio castelli presente mi sono mancato ditemi la verità francesco ferrari finalmente presente sono qua susanna susina presenta l'appello eccomi qua ciao giuliano debonati vi aspetto naturalmente open space sempre prima di francesco ferrari così si incazza o ci dovete essere paolo costinelli presente ci sentiamo venerdì sera sandra ferreira sto qui pronto per come sta stefano video eccomi qui sono presente siamo tornati finalmente ciao ragazzi e lo isa sono ci sono insieme a un buon bicchiere di vino maurizio testi dal divano di casa testi maurizio presente dal cairo di vin dal legito il dono del milo di vin giuseppe inviata di rd e è presente max del disco max sono qua presente non posso mancare buongiorno buonasera silvia eccomi ciao a tutti massimo bonella sì sì ragazzi sono qui presenti dal veneziano per qualsiasi aggiornamento l'amichi si papà ci sono roberto scaglione sono già le 22 e 15 sono pronto eccomi alla regia televisiva rosario moreno sempre presente stucca non mi muore e naturalmente andro mercù ed io ragazzi ci sono non so chi è questo andro a bene ci siamo tutti allora si può ricominciare venerdì 17 aprile su radiodiffusione europea e radioattività morte al coronavirus lunga vita all open space vi aspettiamo alle 21 1 1 2 2 1 1 2 1